Poi io conosco il mio corpo e so che se non ha quel tot di energie È giù E come fai a dare quel tot di energie? Mangiando Mangiando? E perché non mangi? Perché non ho il tempo E gli dai me stamattina a colazione Colazione non l'ho praticamente fatta Devi pianificare meglio la tua giornata in base agli impegni e alle lezioni che hai La sera devi andare a dormire presto Devi riposar Anche se è impossibile e difficile Questo andare a dormire presto? Le tre? Tre e mezza? Ma non va bene per te dico Perché poi guarda, sei stanca È una casa di matti Non ti so neanche spiegare Ogni giorno io sono lì che faccio cosa, faccio cosa, faccio cosa Tutto quello che gli altri non fanno Cioè pulire la casa Per dire Ogni tanto mi sento più la donna delle pulizie lì dentro Che una concorrente di amici Giustissimo tra virgolette se è collaborazione con tutti Ma tu ne hai parlato con loro? Non che ogni sera lo faccio io Lo facciamo ogni giorno, ne parliamo ogni giorno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti